Rapido 904, la strage dimenticata, l'ultimo libro della giornalista scrittice Giuliana Covella, un libro nato con l'intenzione di far luce su un'inchiesta importante, appunto dimenticata. Sì, una strage dimenticata perché spesso viene confusa con quelle per così dire più famose, la strage di Bologna, la strage dell'Italicus e via discorrendo. Invece è una strage per la quale molti superstiti portano ancora il segno, insieme chiaramente ai familiari delle 17 vittime. Ecco, un libro che tu hai presentato in tutta Italia, quindi con spettatori differenti. Che cosa hai provato nel presentarlo in più regioni? Ebbè, è importante portare questo messaggio non solo di legalità, ma proprio dell'importanza di fare memoria. Tra i giovani in particolar modo siamo stati infatti a Corleone, quindi la patra è proprio di Totorrina che negli ultimi anni è venuto fuori, è il mandante ed esecutore di questa strage. E lì è stato difficile parlare ai giovani di questa figura a cui loro sono abituati e molti dei quali appunto sono cresciuti proprio venerandolo. Quindi andare a parlare in quei territori di tragedie come queste ha un significato doppio. Per un paese civile si deve fare memoria dei propri morti, ecco perché non si deve più dimenticare, ma soprattutto si deve far sì che venga fuori la verità e la giustizia per chi è morto, ma per chi c'è ancora. Tra l'altro un processo recentemente riaperto, quali sono gli sviluppi? I sviluppi sono appunto quelli che vedono imputato il boss di Cosa Nostra, Rina, in questo processo che è stato riaperto nel 2010 dalla DDA di Napoli, adesso in corso alla Corte d'Assise di Firenze e si sta sviluppando con le testimonianze di vari collaboratori di giustizia che non fanno altro che confermare appunto le responsabilità di Rina in questa strage. Ecco, come mai nei tuoi libri tratti sempre tematiche molto profonde, molto delicate però nello stesso tempo? Beh, perché c'è forse da cittadina più che da giornalista questa sete di giustizia, di verità, perché credo che questi episodi non riguardino soltanto chi li ha vissuti, ma tutti noi cittadini di un paese, come dicevo prima, civile.